Acquisire solide competenze e costruire sicure prospettive di inserimento lavorativo nel settore dei servizi alberghieri e ristorativi grazie a una qualifica professionale molto ricercata sul mercato. È l'opportunità offerta dal percorso formativo per tecnico di cucina rivolto ai giovani tra i 14 e i 18 anni proposto dal consorzio SUL Scuole Umbre per il lavoro costituito da sei agenzie formative del territorio umbro. Il percorso duale per i profili di tecnico di cucina e tecnico di sale bar sono percorsi quadriennali dove nei primi tre anni si prende una qualifica professionale e con il quarto anno si accede ad un diploma professionale. Già dal secondo anno i nostri ragazzi proprio per effetto del percorso duale possono svolgere dei tirocini formativi presso le aziende anche attraverso la formula dell'apprendistato di primo livello. Questo permette al ragazzo di poter velocemente imparare studiando, lavorando direttamente in azienda ed acquisendo le capacità tecniche che servono per poter fare questo tipo di attività. I nostri docenti sono docenti di altissima qualità che sono dei professionisti attivi in regione e in tutta Italia e che svolgono un'attività di docenza di altissima qualità per i ragazzi. Tra i docenti di ITER anche lo chef Maurizio Serva che ha rivolto un messaggio direttamente ai giovani. Questo lavoro va iniziato da giovani, non va buttato tempo perché poi le cose se le fate e le fate quando siete molto giovani. E quindi fatelo subito e l'Università dei Sapori vi offre un'incredibile opportunità perché poi, diciamo, oltre ad aver assicurato ed oggi è così un posto di lavoro certamente sicuro, avrete anche la possibilità di girare molto, di conoscere nuovi posti, di fare nuove esperienze. Facciamo dei percorsi di sostegno nei quali affrontiamo con i ragazzi, oltre i percorsi professionalizzanti, le questioni legati al genere, le loro storie di vita. Lavoriamo molto con l'approccio narrativo autobiografico e quindi partendo da loro ci apriamo poi a tutte le possibilità e alle esplorazioni che hanno a che fare con la loro età. Il percorso per tecnico di cucina è interamente gratuito, si può frequentare a Perugia da ITER Università dei Sapori, a Terni, al CFP di Pentima, Città di Castello, alla Scuola Bufalini e nelle sedi CNOS FAP di Perugia, Foligno e Marciano. L'obiettivo era mettere insieme le forze, forse la pandemia ci ha insegnato che le grandi sfide non si affrontano mai da sole e questo ci ha permesso di fornire un sistema formativo che al suo interno racchiude ben oltre 60 laboratori diffusi nel territorio Umbro, che parlano delle professioni più storiche e tradizionali dei nostri settori, dunque si va dalla meccatronica e si arriva all'estetica, dunque a tutto quello che è il benessere della persona, fino magari alle ristorazioni, ai cuochi che un giorno magari diventeranno stellati. Al corso ci si può iscrivere dal 7 al 31 gennaio di tutti gli anni direttamente dal portale del MIUR e nel resto dell'anno contattando gli enti formativi del SUL che lo propongono.